ciao a tutti oggi prepareremo i pancakes il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa più il tempo di cottura ingredienti sono farina doppio zero latte lievito per dolci sale zucchero semolato uova e burro andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina lo zucchero il sale il lievito per dolci le uova il latte e il burro chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 6 il composto è pronto adesso lo cuoceremo in una padella antiaderente posizioniamo sulla padella un pezzettino di burro e andremo a mettere mezzo mestolo di composto il pancake è cotto proseguiamo così fino al completamento di tutto il composto il pane pancakes possono essere serviti con sciroppo d'acero e zucchero a velo grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti Grazie a tutti.